Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder però, sentite bene, è uno squad builder che non vi consiglio di provare cioè, non vi consiglio di fare perché non mi è piaciuto però pensavo che fosse anche giusto portare sul canale, oltre a squadre che mi sono piaciute e che sono forti anche squadre che non mi hanno fatto impazzire e dicendo anche il perché allora, partiamo dal presupposto che è il 4334, uno dei miei moduli preferiti però, alcuni giocatori forse non stanno bene in questo modulo, per gradi andremo a vedere e il problema principale di questa squadra è che riesce a fare veramente pochi gol crea pochissime occasioni, anche avendo comunque giocatori molto buoni comunque, andiamo a vedere i giocatori singoli, partiamo dal portiere e stiamo parlando di, 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 altra pagina di Art 83, quindi la versione upgrade, che di per sé è un ottimo portiere fa tantissimi salvataggi, ha delle statistiche molto molto buone l'unico problema di questo giocatore forse è il piazzamento, che non è il migliore però comunque sia, è veramente un top portiere, è veramente molto forte andiamo con la difesa, che è un buon reparto comunque sia come terzino destro io ho utilizzato, allora se lo trovo, Konko che non è male, nel senso che potrebbe essere più forte magari in difesa ma comunque non è male, anche perché a work rate è normale, normale quindi mi piace, è veloce, è un discreto passaggio, è un discreto dribbling quindi Konko va bene ho sbagliato qui difensore centrale di destra, io ho utilizzato, adesso sarà da qualche altra parte Kossielni, che anche esso non è male, nel senso che questa è la sua versione upgrade è veloce, ed è affiancato da uno un po' meno veloce però va bene, Kossielni ha un fisico non altissimo però comunque sia è forte anche Kossielni tutta la vita del resto è molto molto forte il suo compagno di reparto Kompany che è uno dei migliori del gioco, purtroppo non è velocissimo infatti in alcuni casi si sente quando per esempio i difensori, gli attaccanti velocissimi avversari vanno in velocità Kompany non sempre riesce a recuperarli per via della sua velocità un po' bassina però comunque sia, è veramente fortissimo difensivamente la pecca della difesa è senza dubbio il terzino sinistro che potete cambiare tutta la vita cioè, crescito veramente pessimo, non mi è piaciuto magari ecco in altre squadre gioca meglio però a me non è piaciuto, non è velocissimo ha un passaggio orrendo sbaglia praticamente tutti i passaggi sia di sinistro che di destro difensivamente non è il massimo cioè non è male, però non è neanche il massimo secondo me poi, andiamo al centrocampo altro buon reparto troviamo allora, adesso non mi ricordo ah sì Pogba come centrocampista centrale di destra che non va bene Pogba come centrocampista centrale in un centrocampo a due non va assolutamente bene perché ha worker d'attacco alto quindi spesso è fuori posizione se gioca da mezzala magari in un centrocampo a tre allora è devastante tanto meglio secondo me da trequartista però il suo buon lavoro comunque l'ha fatto i suoi golletti i suoi assist i suoi assist li ha fatti è forte sì, però delle volte perde il pallone in modi davvero inspiegabili ma questo è un po' il problema di tutta la squadra perché secondo me in alcune partite anzi, quasi sicuramente ho subito qualche script o robe varie perché è davvero comportamenti dei miei giocatori inspiegabili ma vabbè, andiamo oltre andiamo con il centrocampista centrale di sinistra che se riesco a trovare vi faccio vedere chi è Witzel che non è male nel senso a me è piaciuto tanto come giocatore difensivo un po' meno come giocatore offensivo perché non ha un tiro eccezionale non ha neanche un passaggio eccezionale 77 mi sembrava forse un po' meno anche il controllo di palla non è il massimo adesso non so quanto abbia però, appunto, ripeto difensivamente mi è piaciuto e comunque mi sembra che un paio di golli ha fatti però non mi ricordo e qualche assist poi finiamo il reparto di centrocampo con Cardona Team of the Season che l'ho già usato nel vecchio squad builder però io sono dell'idea che i giocatori che vengono upgradati cioè, lui è argento ed è stato upgradato ad oro per ricevere questa versione Team of the Season sono sempre un po' inferiori rispetto a quanto si dice, diciamo, sulla carta mi sono sembrate molto inferiori le sue statistiche rispetto a quello che, appunto, c'è scritto su questa carta però comunque sia in fase offensiva in fase da gol lui c'è sempre secondo me è un buon posizionamento adesso non so quanto abbia però era sempre lì quando mi servia però da quell'aspetto, diciamo sotto questo punto di vista è molto forte Cardona magari se deve fare l'assist vincente o il tiro dalla distanza non mi è piaciuto tantissimo poi andiamo con l'attacco che è il reparto peggiore di tutti cioè da migliorare allora, come ala destra ho utilizzato Quadrado che vi sconsiglio altamente perché lo reputo veramente scandaloso mi ha fatto un gol in 15 partite vabbè che 15 partite totali da quando l'ho preso però un gol e 3 assist in 15 partite per un ala così veloce poi quindi dovrebbe essere fortissimo non va molto bene cosa ha di bello? ha di bello che ha 5 stelle abilità che è velocissimo che è agile che è un dribbling della madonna e basta il tiro secondo me è penoso 77 sembra un po' di meno molto di meno come del resto anche il passaggio fa dei passaggi veramente horror però poi magari cambia ruolo cambia il modulo e diventa un fenomeno fatemi sapere voi in quale modulo vi è piaciuto Quadrado così lo proverò magari in quel modulo e vi farò sapere poi come ala di sinistra io ho utilizzato danni eccolo qui che vi sconsiglio come vedete la parte di sinistra potete più o meno un po' cambiarla cioè il terzino sinistro e l'ala sinistra magari anche il centrocampista centrale che è un giocatore belga vabbè fate voi comunque io vi consiglio di cambiarla la parte sinistra perché non è il massimo stesso discorso per Quadrado danni poco prolifico come giocatore fa anche pochi assist non è neanche velocissimo ma soprattutto ha un fisico bassissimo quindi perde tante volte la palla nei contrasti con anche qualche terzino sinistro non tanto più grosso di lui è forte nel dribbling ha un discreto tiro non il massimo però mi sento di dirvi di mettere un altro giocatore in questa posizione mentre come attaccante volevo provarlo quindi l'ho provato cioè Pabon che mi è sempre piaciuto come versione NIF mi è piaciuto molto con questa versione Team of the Season perché è uno che segna praticamente sempre 14 partite 14 gol quindi non costa neanche tanto quindi lui è forte ve lo consiglio ed è l'unico giocatore di questa squadra che fa veramente la differenza perché quando prende palla lui segna il problema sono i giocatori che ha attorno però vabbè quello si può sempre migliorare raga questa è la squadra ripeto ci sta anche qualche volta a portare squadre che non mi hanno fatto impazzire così da vedere un po' quali sono i punti deboli e come migliorarle secondo me cambiando la parte di sinistra e magari anche quella di destra tanto i due colombiani lì in mezzo fanno triple intesa quindi possono essere lasciati lì così cambiando magari parte sinistra e parte destra diventa una squadra migliore comunque raga come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e consigliatemi altre squadre da fare in futuro nei prossimi video come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link in descrizione adesso vi lascio il clip ci vediamo al prossimo video bella raga to hear reflections of you all around a iscrivervi al mio canale ciao